Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come condividere i giochi con un tuo amico o familiare sull'account Steam ovviamente questi account vanno connessi per esempio se io sto su un pc per esempio come puoi vedere io faccio su cambia account faccio continua tu ovviamente devi prima crearti un account su google sul sito di Steam e poi una volta fatto ti uscirà poi questa interfaccia su launch di Steam e tu devi cliccare su più perché quando clicchi su più tu potrai mettere così le tue credenziali quindi metterai le credenziali dell'account che hai creato su un browser qualsiasi quindi o su google su internet su qualsiasi browser e accedi con quelle credenziali e poi una volta fatto metti ricordami e sarà salvato qua sopra io ovviamente sto condividendo vi sto facendo un esempio questi sono i miei due account però questo qua è del paese turco ho messo turco e questo qua è il paese Italia quindi adesso sto usando il secondo account ovviamente comanda il secondo account quindi io adesso vado a mettere sul secondo account una volta fatto vado nella libreria però alcuni giochi non permettono la condivisione familiare quindi per esempio questo gioco qua ha brutato questo qua lo permette e lo permette anche quest'altro gioco 7 days to die questo qua pure quindi per abilitare questa condivisione vai su impostazioni io per esempio sono il capo quindi io sono il capo vado su famiglia e vado su autorizza la condivisione su questo dispositivo io ovviamente attivo la condivisione e dice nessun account idoneo quindi facciamo gestisci qui puoi gestire così gli account li puoi gestire gli account per esempio se hai tipo 4 persone che stanno usando il tuo account per giocare tu puoi anche togliere la loro autorizzazione quindi puoi revocare così la licenza facciamo caso tu revochi così la licenza per giocare sul tuo profilo ok quindi per esempio adesso che faccio io visto che sono il capo esco da questo account faccio cambio account faccio continua vado sul mio account personale vado su nella libreria quindi adesso vado a prendere quel gioco brutato se lo trovo eccolo qua ed eccoci qua quindi ovviamente il capo che sta sul pc prendo in prestito questo gioco però ovviamente per prendere in prestito questo gioco devo chiedere l'autorizzazione quindi vado su prendi in prestito richiedi l'accesso ok è stata già inviata speriamo che vada a buon fine ovviamente io ho preso in prestito così il gioco e ovviamente io adesso vado sulle mail del proprietario e accetto così l'autorizzazione di questo account qua ok ed eccolo qua allora come funziona io adesso ho fatto la richiesta al capo e quindi sono con le mail del capo e devo accettare quelle mail ok devo accettare le mail che ho fatto adesso ok perché ho preso in prestito il suo gioco quindi ho chiesto il permesso e mi è arrivata l'email e faccio consentire accesso al computer tonygamer17 è stato autorizzato ok abbiamo così autorizzato ed eccoci qua quindi ovviamente io ho chiesto l'autorizzazione al capo il capo mi ha accettato e adesso posso giocare quindi ovviamente vanno inseriti vanno inseriti così anche su un altro pc puoi fare questa cosa basta che questi account sono tutti collegati tipo come ho fatto vedere prima cambia account e ci sono i due account vicini puoi mettere fino a 5 account e chiedi in prestito al capo se può usare questo gioco ovviamente non funziona su altri giochi come Elder Ring ovviamente Elder Ring è di questo account non è del capo quindi è di questo account qua oppure un altro gioco come Rust che non lo puoi prendere in prestito questo è sempre dell'account mio no del capo e quindi se è un processo veramente un po' complicato però funziona così su Steam impostazioni vediamo famiglia io ovviamente autorizza la condivisione su questo dispositivo e adesso come funziona io adesso divento il capo e quello che era il capo diventa un tizio qualsiasi per esempio autorizza ed eccolo qua mostrando quando le librerie di condivisione diventano disponibili e fai nessun account idoneo quindi che significa se io adesso vado su questo account l'account dell'altro tizio il tizio chiede a me se posso usare se può usare i miei giochi e io vi do il permesso attraverso l'email ovviamente come ho detto è un po' complicato quindi se non hai capito bene commenta sotto al video entra nel mio server discord per scrivermi a me in privato e ti spiego meglio quindi tolgo così la autorizzazione solo alcuni giochi possono permettere questa cosa quindi se questo video ti è stato utilissimo su come attivare la condivisione familiare si deve sempre accettare attraverso un'email quindi tu ti fai un altro account su un altro browser con un'altra email altre credenziali e accedi su steam lo metti vicino agli altri account sul più quindi se vi è stato utilissimo iscrivetevi lasciate like commentate se avete problemi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao